Sono Luca Conforti di Nital e quella che ho in mano è la nuova Nikon D7000. La Nikon D7000 è nata per infondere una nuova energia creativa a tutti gli appassionati ovviamente di fotografia, dando una marcia in più a tutti quelli che vogliono accrescere la propria passione attraverso la fotografia con una fotocamera ovviamente reflex. Tutto questo la macchina lo mette a disposizione grazie a una serie di nuove funzioni e caratteristiche che possiamo iniziare a raccontare partendo dal sensore d'immagine. Il nuovo sensore CMOS ha una risoluzione da 16 megapixel ed è supportato nel suo lavoro dal nuovo circuito di elaborazione d'immagine che è l'Expeed 2. Il connubio di questi due elementi fanno sì che la fotocamera possa lavorare in maniera eccellente anche in condizioni di luce scarsa. Infatti ha una sensibilità ISO che va da 100 a 6400 che può essere estesa ulteriormente fino a 12800 ISO. Abbiamo ovviamente un monitor da 3 pollici ad alta risoluzione da 920 mila punti che è lo stesso che troviamo nelle reflex di fascia alta. Tramite il monitor ovviamente possiamo accedere alla funzione live view con il quale possiamo inquadrare tramite appunto il monitor e accedere alla funzione filmati. Il filmato è una delle caratteristiche innovative di questa fotocamera. Infatti permette di fare filmati fino alla risoluzione full HD con la possibilità di acquisire l'audio anche attraverso un microfono esterno stereo dedicato. La fotocamera offre un mirino a pentaprisma con una copertura del 100%, quindi ci consente di avere certezza che tutto quello che abbiamo inquadrato verrà esattamente descritto nell'immagine che acquisiamo. I punti di messa a fuoco all'interno del mirino sono 39, quindi abbiamo la possibilità di avere una copertura completa del fotogramma e sfruttare 9 dei 39 punti AF che hanno una sensibilità cosiddetta a croce, quindi sensibili sia sull'asse verticale che orizzontale. Bisogna sottolineare una caratteristica che fa sì che la D7000 sia anche utilizzabile in condizioni magari un pochino più estreme. Infatti il corpo della fotocamera è composto dalla parte anteriore, quella superiore, da una lega di magnesio, quindi a garanzia di un'ulteriore robustezza e anche a maggiore impermeabilità sia all'acqua che alla polvere. La fotocamera offre inoltre due slot per utilizzare in contemporanea due SD card, quindi per aumentare la capacità sulla quale memorizzare le nostre immagini, oppure utilizzare uno slot per salvare le immagini in JPEG e l'altra i file in RAW, oppure uno slot per i filmati e l'altra per le immagini. Il sensore esposimetrico della D7000 ha 2016 pixel, ci consente appunto di avere una copertura completa dell'immagine e quindi di avere una mappatura di quella che è la scena che stiamo inquadrando per avere una più accurata esposizione e le informazioni ottenute dal sensore esposimetrico riescono anche a dare supporto al sensore AF e anche al bilanciamento del bianco per una migliore valutazione. L'otturatore della fotocamera ha garanzia di ulteriore robustezza e è testato per cicli di 150.000 scatti. Come abbiamo detto, la fotocamera permette appunto l'acquisizione video di filmati appunto in risoluzione Full HD a 24 frame al secondo e consente direttamente dalla fotocamera di effettuare anche dell'editing video, quindi possiamo scegliere dalla clip che abbiamo acquisito un singolo fotogramma e salvarlo come immagine fissa, oppure accorciare il filmato che abbiamo realizzato togliendone una parte iniziale o magari di quella finale. La D7000 si differenzia inoltre anche per la sua rapidità d'azione, infatti è in grado di accendersi in soli 0,13 secondi e ha un ritardo allo scatto di 0,05 secondi. È ovviamente compatibile con tutto il sistema di accessori Nikon, tra cui ovviamente anche il GPS GP1 con il quale possiamo georeferenziare le nostre immagini, tutto il parco di flash tra cui ovviamente anche il nuovo SB700 e ha una sua impugnatura dedicata all'MBD11 con la quale possiamo aumentare l'autonomia della batteria. La fotocamera è disponibile in quattro diversi kit oltre al solo corpo macchina. Il body costa al pubblico 1.190 Euro, mentre il kit con l'obiettivo standard 18105 ha un prezzo di 1.350 Euro al pubblico. È disponibile anche con gli obiettivi 16, 85 e 18, 200. In tutti i kit è disponibile una memoria SD da 4GB Lexar. La D7000 quindi è la macchina ideale appunto per il fotomatore evoluto. Le caratteristiche che strizzano l'occhio a questo tipo di utenza come abbiamo detto sono la risoluzione da 16 megapixel, il nuovo sensore CMOS, i 39 punti AF e la possibilità ovviamente di fare i filmati video in HD. A proposito del filmato video, l'intervista che state vedendo è stata appunto realizzata proprio con la nuova Nikon D6000.